oggi siamo qua per ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della vanilla insieme a mario è un essere molto bella si chiama sofia sofia vero che lei sta andando a picchiare il ma con la spada in legno ancora ma ci stava ma chi sei o ci fai sofia un po di l'hai presa te mario l'hai presa da te la spada no ovvio maio se tu mi regali le cose che colpa mia beh per una signorina come lei mi sa che la dovemmo tenere a bada ah aspetta forse qua su questo albero mi sembra molto bene dai la creo io la crei una mega villa va vada mario tieni i materiali io e sofia intanto andiamo in maniera quello intanto si è sotterrato io ciao mario e io gli sto da tutti i materiali lui si è sotterrato così senza dignità sofia ma tu si creativote già 42 pezzi ma si vergogna ma no non c'ho niente la foste del carbone venite la prendi non lo scavo il carbone sono a che mi serve sii io aia ho fottuto i materiali di sofia ok una sacca di cobblos non ce l'abbiamo cg ok dai ragazzi ci dobbiamo mettere da fare Mario tu sta villa qua però dove la vorresti puoi fare lì perché dovremmo disboscare tutta a questo punto mi dice dove? dove che disbosco tutto? vai andiamo Sofia disboschiamo tutto questo tutto l'atrio peninsulare eh però se me lo dicevate prima mette quel plugin ricapite d'or così io e Sofia avevamo già finito beh in realtà lo potevi mettere però ma che è? è un plugin che tu distruggi spacchi un blocco di un albero e ti spacca tutto eh infatti ah lo capisco abbiamo avuto la stessa idea no perché stavo a spaccare un albero dall'alto lui sta sotto e io sono caduto sopra è bello allora mi serve una palla vai Mario pala spalla porco due quanti altri Mario ma sei sicuro che tutta che tutta la penisola dobbiamo radere al suolo? sii dottor Bianca la terra da qua madonna ma no guarda ok censura cosa ti serve? niente ti stavo dando fastidio grazie bello allora momento pepsi oh regalo voi scherzate ma io preferisco la pepsi e la coca cola adesso mi flammano tutti no in realtà a me mi piace la pepsi in lattina perchè quella nella coca cola è troppo frizzonte a me non piace la coca cola non me lo vado a prendere non me lo vado a prendere vai Mario vado a prenderlo non ce l'ho puoi cucinare solita frase che dico nei c***i basta che è successo? che è successo? no io io ah ovvero? eh quello della pepsi boh così random oddio no fuck ho un piccolo ma Mario ah no ok pensavo che aveva fatto solo uno strumento thanks ah ma poi già ce l'avevo vabbè non ne c'è niente più vendita si corriso ma senza lattosio va bene si corriso senza lattosio bella la pubblicità viva la pubblicità lei viene in mezzo e mi dà passi che mi passi in mezzo e mi scavo e io dovevo togliere l'albero e tu eh no eh ho ragione io sono qui zitta spalare per farti la casa e tu pure lì ah Mario ma tu ti devi stare zitto guarda che lavoro che abbiamo fatto adesso abbiamo abbiamo spalato un continente ma capirai io mi sono dovuto ti ho dovuto rubare la 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 pietra eh boh mi sento il traduttore arabo non sarà fiero mhm mhm ad Antonio vende ma chi è? ehm è un negro di turno non si deve preoccupare questa la devi tagliare lo sai vero così lei si vada a guardare i video e poi che fira hai ragione devi tagliare anche questo no non credo non lo puoi dire ma fra tutte le parole che tu avrei detto vai Mario si ma a quello fidati che non lo puoi dire tanto non mi monetizzano il video tutte le parole offensive che hai detto controlli me sono due secondi ti voglio bene poi vabbè che io a me pure se mi monetizzano non mi monetizzano mi sembra più alto che logico raga mi date tutte le mie chiaviete perchè dovrei iniziare a buildare si allora ti do questo ti do questo io in cambio vi do una cosa va ti do questo ti do questo non la voglio la terra ti do questo ti do questo no io non so qualcuno qui ha una disinfestazione Liz oh ti do questo ti do questo vai ahahah 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 perché mi è bullizzata perché è un segno da fette nooo ah 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 no 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 me ne vado a scappo mario ho un altro ho altri venti di legno ahia vado a vivere eh io sto ristoggiando la legna insieme a Sofia tu c'è il marciano basta ahia eh eh Enzo c'ho uno due tre tre stacca e mezzo di legna tieni questo è uno di così stacca stacca ci stanno ricciantando 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 uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove ecco qua il grano perché perché stai costruendovi l'acqua ma chi shhh shhh ok muori 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 bambino bambino non è schifo raga sluggate se sluggate dormo così non spawnano noi così allora ok Sofia oh sluggate che io dormo sono andato sono andato non in creativa con la bolmia l'ho fatto la pianta raga sluggate che io dormo sono più bravo sono più bravo sono più bravo è una casa vega enorme ah Sofia caduta cosa vuoi? no fuck sono caduto fuori godo cosa vuoi tu? vedi sparire tu tu via bello da manca bello da manca furca ma muori aia un due tre ops si ho ucciso Sofia io giuro che tu non mi farai niente qua in acqua scherzato ma la sei oh guarda raga ci mettiamo due minuti soltanto ad osservare l'acqua ... dove signor Mario? cosa? come blazedone tu se da- te sei da- te sei daaaah non so no- da 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 non so cosa va bene per quante volte mi sono preso insulti in questo video oggi non so che altro dire non so ti meriti non so cosa è la morte no dico ma è che poi nice n ti lascio farmare salgo sopra a fare altre scale per finire sta casa che ormai mai mario ti regali fiorellini ne voglio basta che chiedi la fornace ed è pronto tieni 5 di questo tiene sta lì a guardare il nulla lei va bene grazie per il raga faccio il primo pane della storia di minecraft ma guardate raga ci stanno le ombre le ombre di che stiamo parlando e stamos ma grazie perché sempre si troppate i drop belli a parte i pipistrelli ma dettagli vabbè dai lascio a farmi i compagni ma mario ti servirà altra altre legni e se cobblestone a te si vado a fare un altro po bene vado poi io stai spandando qui vado tanto vorrei trovare pure mi ha cagato sotto un pipistrelli ma che staglia fa no io direi raga lo sapere che possiamo fare direttamente possiamo fare che concludiamo questo episodio se non nessuno se lo guarda da 24 minuti che possiamo fare che intanto finiamo la casa off camera voi che ne dite ci sono ok quindi ora io vi saluto tutti ti spero che lasciate un bel like per sofia e per mario il ritorno no perché per me già avete lasciato al vecchio episodio vero comunque da mario vincenzo enzo e sofia è tutto ciao 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 ciao